Stanco e felice abbiamo fatto questa grande scommessa perché era difficilissimo organizzare una cosa di genere lo vedete voi, basta sbagliare qualche cosina che va a fare tutto certo, l'avevamo programmata per 100 persone, infatti l'edizione di sera era un po' la prova e poi invece 100, 120, 150, 200, 220, il giorno di Pasquetta, in mezzo al mare, tutto poi la finita in mezzo qualche problema c'è stato, però io penso che il vero sportivo debba riconoscere che arrivare in un posto dove non è arrivato nessuno, il giorno di Pasquetta, debba essere molto raffreddato anche quelli che hanno entrato Stato, che sono presentati a parte